Il cinema è una malattia ereditaria. Renzo Rossellini, figlio di Roberto, farà il suo primo film come regista, ma nel Sud America. Nessuna difficoltà per il piccolo Rossellini al controllo dei biglietti, del passaporto, alla dogana. Dice un proverbio, a nemico che fugge, punti d'oro. Il film si chiamerà Il mondo sulle spiagge. Buon bagno, Renzo!